È il momento di allacciare le scarpe e tirare su i calzettoni. Dopo essersi radunato ieri pomeriggio presso il Green Park Hotel, l'Avellino è atteso dalla prima seduta di allenamento della nuova stagione, appuntamento alle ore 17 al Sibilia di Torrette di Mercogliano, per le prime fatiche agli ordini del neotecnico Domenico Toscano e del suo staff. Suderà con i suoi nuovi compagni di squadra anche il difensore uruguaiano Alejandro Damián González, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Verona, e il portiere Boris Radunovic, girato in Irpina e dall'Atalanta, al pari del cursore di fascia Mancino, Patrick Coggio Asma. Nelle prossime ore si aggregherà al gruppo anche il colpo da 90 per l'attacco, pescato nella Roma, ovvero Daniele Verde, da ieri ufficialmente del lupo, che ha battuto la concorrenza di Crotone e Cesena, al culmine di un'intensa giornata capitolina, sintetizzata così al rientro in città dal presidente Walter Taccone. Ragazzi, questa è una giornata micidiana, vi prego, il risultato l'abbiamo tenuto, però sono stanchissimo, non mi reggo in piedi, è stata una guerra. La rifondazione promessa si sta concretizzando come certificato dai tanti volti nuovi e da qualche doloroso addio, come quello di Mariano Arini, da giovedì calciatore della SPAL, ieri l'ormai ex centrocampista dei lupi, ha fatto una sorpresa ai suoi vecchi compagni, raggiungendoli per gli ultimi abbracci, poi ha salutato tutti, così. Quattro anni non sono pochi, un giorno non basta, non basterà penso una vita per cancellare i momenti passati qui, mi faceva piacere, ero comunque qua e quindi non potevo non venire a salutare tutti quanti. Grazie. 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 Grazie.